Toman Italia, buongiorno, sono Riccardo, come posso aiutarla? Ciao Riccardo, guarda, io vorrei acquistare degli articoli dal vostro sito, tra l'altro anche visto che sono disponibili, però avrei veramente la necessità di riceverli entro 48 ore, è possibile questa cosa? Sì, guarda, non c'è problema, possiamo offrire una spedizione in 48 ore, però in questo caso ci sarebbe un piccolo costo extra che va calcolato in base al volume e al peso del pacco. Hai già fatto l'ordine? Sì, tra l'altro posso dire di essere un cliente storico di Toman, quindi magari posso darti il mio numero cliente e controlliamo insieme? Certo, dimmi. Allora è 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Ok, allora guarda, vedo che per la merce che ho ordinato il costo sarebbe 30 euro, se vuoi posso mandarti direttamente via email un link di pagamento per pagare la differenza in modo che possa uscire oggi e arrivare nelle 48 ore. Sarebbe assolutamente fantastico, quindi sì, ti confermo di procedere pure con la consegna espressa. Benissimo, allora guarda, ti mando una mail in pochi minuti e potrai procedere con il pagamento seguendo le istruzioni del link e da lì sarà spedito. Ok Riccardo, grazie mille, sei stato gentilissimo, sono sicuro che arriverà per tempo e buona giornata. Allora grazie a te, è stato un piacere aiutarti, se hai bisogno di qualcos'altro non esitare a contattarci. Sai cosa abbiamo in comune con te? La tua stessa passione per la musica. La tua stessa passione per la musica. SIGLA Grazie.